la civiltà ci impone che tutti passano sulla corsia d'emergenza perché sono moto e motorini ma sono passate 4 o 5 macchine e c'è un camion pure che è un camper sta passando altro è proprio un senso di civiltà non c'è niente da fare non gliela famo però poi dopo ordine e onestà mi raccomando